La protesta dei trattori arriva anche all'Aquila. Da oggi a fine a venerdì manifesteranno con un presidio autorizzato lungo la Statale 80, ma domani daranno vita ad un vero e proprio corteo che partirà dalle 9.30 da Via Domenico da Scagno per arrivare alla Fontana Luminosa. Agricoltori e allevatori si dicono pronti anche ad andare a Roma, qualora le loro ragioni non fossero ascoltate. Tutti i movimenti che stanno in Abruzzo sono tutti collegati insieme, siamo tutti uno. Abbiamo cercato di farli in tutte le città per non far muovere troppo i trattori e non creare problemi. Però se noi non veniamo ascoltati partiamo per Roma. L'IRPEF che vogliono rimettere sui terreni, le assicurazioni sui trattori che non usiamo per strada stanno nei piazzali, i consorsi di bonifica che prendono 200 euro l'ettaro senza magari utilizzare l'acqua, i danni da fauna selvatica che vengono risarciti solo del 16%, la selvaggina incontrollata, i piani del parco che si sta prendendo, gli usi civici, sta cacciando praticamente fuori dalle montagne gli allevatori. Una manifestazione per ribadire le difficoltà del settore dal caro carburante, passando per i danni causati dalla fauna selvatica e ancora danni da maltempo e cibi sintetici che l'Europa vorrebbe mettere in campo. Gli agricoltori e gli allevatori si sono riuniti in vari comitati, il loro scopo è portare sul tavolo della politica tutte le problematiche esistenti nel settore. Per loro l'attacco viene direttamente dalla comunità europea con la nuova PAC, Politica Agricola Comune, ma ci sono tanti problemi burocratici che loro vorrebbero veder risolti. Non si mangia più roba sana ma si mangia solo roba sintetica, le nostre proteste oltre a questo facciamo la protesta per la nostra burocrazia, ma perché adesso non è più un lavoro lavorare facile con gli animali ma è lavorare sulle carte. La nostra protesta è che aumento del gasolio, diminuzioni della PAC, ci stanno dicendo smettete di fare questo lavoro. Ecco, la ragione vostra è coinvolgere un po' tutti e anche la politica locale affinché ci sia un impegno concreto per venirvi in conto. Esatto, esatto, sì, per fare in modo che ci diano una mano, anche perché questa protesta non riguarda solo gli allevatori ma è dal produttore al consumatore, tutti quanti.